A Teramo il consigliere comunale di opposizione ed ex candidato sindaco Carlo Antonetti ha annunciato di inviare a Corte dei Conti e ANAC il rendiconto comunale delle spese sostenute dal Comune per gli eventi di Teramo Natura Indomita. In particolare sotto la lente di ingrandimento sono finiti i fondi largiti alle associazioni in termini di quantità e opportunità. È giusto far luce, piena luce di trasparenza su tutto quello che è questo argomento, dopodiché è necessario che si crei, a mio avviso, adesso anche con gli altri consiglieri di opposizione, quindi cercheremo di far creare un organo pubblico che selezioni gli eventi in base alla qualità, in base al ritorno promozionale, anche di promozione del territorio, in base all'interesse della città, individui le location corrette, Piazza Martire è stata chiusa una settimana con dei disagi pazzeschi per organizzare questo evento, e che anche sulla scelta dei criteri delle associazioni che devono essere beneficiari e dei contributi. Il consigliere ha puntualizzato che il Comune nei cinque anni passati ha speso per gli eventi circa 2,2 milioni di euro e poi fa i conti del cartello nel 2023 considerando anche l'imminente concerto a pagamento di venditti e degregoni in programma domani a Piazza Martiri. Antonetti però ha voluto sottolineare e apprezzare l'evento di domani e di stimare le associazioni che organizzano gli appuntamenti, a partire da ACS e Big Match. Io ho già detto che non ho niente contro queste associazioni, però non si capisce il perché debbano essere affidati a delle associazioni con questa contribuzione così forte che copre anche i costi e quindi questo percorso va approfondito, va migliorato e va soprattutto fatto nell'interesse della città, quindi gli eventi, o li facciamo organizzare direttamente ai privati, diamo la possibilità e poi si può dare eventualmente un piccolo contributo, oppure facciamo anche un bando per vedere quali possono essere le società che però non debbano lucrare su quelli che sono i costi dei cittadini, quindi non si può far pagare, se il Comune organizza un concerto e vuole investire dei soldi, lo farà ma o non facendo pagare i cittadini oppure avendo degli utili da questi eventi che organizza.